Bentornati sul mio canale amici, voglio cominciare questa nuova puntata che è la prima puntata in presenza del nuovo anno del 2022, raccontandovi di un po' di novità a partire dalla nuovissima sigla. Bene, cominciamo subito con qualcosa di estremamente succoso, perché la prima novità che vi voglio presentare è questa signora qui. Sono sicuro che l'avete già riconosciuta, qualcuno di voi ce l'avrà già, qualcun altro l'avrà già vista, testata, a me è appena arrivata e quindi adesso facciamo l'unboxing. Lo sapete che i miei unboxing sono finti come giuda, per cui la scatola è sparita ed eccoci qui con la meravigliosa Canon EOS R. Io ne sono abbastanza contento, questa camera mi è appena arrivata, non ho ancora avuto modo di testarla veramente sul campo, ho solamente avuto modo di soppesarla, rendermi conto di com'è il grip. Devo dire, il grip è veramente molto molto bello, il fatto che la camera sia più piccola ha permesso di avere uno scavo maggiore e questo consente un grip veramente comodo, praticamente impossibile che scivoli. Come potete vedere in questo momento la camera monta la meravigliosa lente 24-105 f4, è una lente di serie L quindi ovviamente è una lente premium di quelle della serie costosa per intenderci. Io sono convinto che questa lente riservi delle grandissime sorprese perché stiamo parlando di una qualità ottica assolutamente superiore, stiamo parlando di una lente che è molto migliorata rispetto alla precedente versione del 24-105. Stiamo parlando ovviamente di una camera mirrorless, è una camera che offre delle prestazioni in termini di messa a fuoco incredibilmente superiori rispetto a tutto quello a cui siamo abituati e ve lo dice uno che viene comunque da una 5D Mark IV quindi non stiamo partendo esattamente da una entry level, è una camera assolutamente di livello professionale. Questa camera ha pressoché lo stesso sensore al processore nuovo quindi dovrebbe già di partenza essere lievemente più potente. Quello che ho potuto constatare guardando recensioni di miei colleghi soprattutto su YouTube è che pare che questa camera abbia una gamma dinamica un pochino superiore cosa che a me fa sempre molta gola. Mi sembra doveroso dirvi che ho deciso di acquistare questa camera non tanto per farci fotografia quanto per farci video quindi avremo presto dei test video con questa camera su questo canale per cui rimanete sintonizzati è il momento di mettere un bel iscriviti a questo canale così non vi perdete il video in cui vi faccio vedere i sample da questa camera. Come vi dicevo non mi interessa tanto il lato fotografico perché lato fotografico io mi trovo benissimo con la mia 5D Mark IV e mi trovo benissimo anche con la 6D, è una camera fantastica che ha ricevuto un sacco di odio in questi anni io invece la adoro e mi trovo benissimo proprio per la sua semplicità di utilizzo perché ha meno punti di messa a fuoco, ha meno manopole con cui spipolare ma io mi trovo molto bene e ho tutto quello che mi serve sul palmo della mano. Parlando di ergonomia questa camera non è il massimo per quanto mi riguarda perché la mia mano è più grande del grip per cui dovrò procurarmi un battery grip altrimenti ho sempre il problema del mignolo che rischia di scivolare fuori anche se vi dico che è un problema che mi preoccupa relativamente perché siccome ho intenzione di usare questa camera prevalentemente per fare video credo che molto ma molto spesso la utilizzerò rigata ovvero la metterò su uno slider, su una glidecam piuttosto che su uno stabilizzatore a tre assi, in questo momento sto provando il Ronin RS mi sembra, non mi ricordo più, dopo ve lo scrivo da qualche parte ma non mi ricordo più che modello sto testando, sì è l'RS, sto testando l'RS mi sembra, per cui in buona sostanza non utilizzerò quasi mai questa camera tenendola in mano, sarà sempre innestata su un cavalletto, su uno stabilizzatore o su qualche altro tipo di dispositivo per fare dei movimenti camera un po' più fluidi perché come vi dicevo mi interessa 99% lato video, mi interessano molto le funzionalità di autofocus, sì lo so che qualcuno starà dicendo i bravi videomaker e cineasti fanno sempre fuoco automatico, è vero, è verissimo infatti avendo tutto a disposizione anch'io farei fuoco automatico però siccome spesso ci si trova in dei contesti dove non si vede bene, non si ha il tempo di stare a fare il fuoco manuale, non si ha il tempo di montare l'attrezzatura per avere il follow focus, magari non si ha il follow focus, magari non c'è tempo o spazio per allestire tutto quanto, ecco che queste funzionalità di messa a fuoco automatica cominciano a diventare estremamente utili. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo di questa camera è che come la 5D Mark IV possiede quella funzionalità che permette di mettere in evidenza a monitor l'area su cui si sta fuocheggiando, in questo caso c'è una doppia funzione, nel senso che posso vedere l'area messa a fuoco che viene evidenziata di un colore a mia scelta tra rosso, giallo e blu mi sembra di ricordare, posso sceglierlo a seconda di quella che è la mia scena, ovviamente se sto riprendendo delle fragole e il mio colore di messa a fuoco è rosso faccio fatica, a quel punto lo metto blu così vedo bene quello che sto facendo, utilissimo. C'è anche un altro meccanismo che è da abilitare, non è attivo di default e che mi permette di vedere se sono avanti o indietro col punto di messa a fuoco rispetto a dove voglio essere. Tutto questo è estremamente utile, queste sono le funzionalità che mi piacciono della mirrorless. Veniamo ai contro, quello che non mi fa impazzire di questa camera è come vi dicevo l'ergonomia, non è che non mi piaccia l'ergonomia, l'ergonomia è fantastica, questa camera secondo me è un gioiello di design, nel senso che è disegnata benissimo, ha delle forme che personalmente trovo fantastiche, mi piace da impazzire quanto ha design quanto ha forme, è veramente bella, quello che non mi fa impazzire è come si innesta sulla mia mano perché come vi dicevo la mia mano è un po' più grossa di una mano adatta a questa camera, io mi trovo perfettamente con la 5D quindi questa per me è un pochettino piccola, ovviamente potrei rimediare semplicemente con un battery grip ma non credo che lo farò, non credo che lo farò perché questa camera sarà quasi sempre rigata quindi potrei rigarla col battery grip ma non mi interessa perché comunque non credo che avrò mai bisogno della durata del battery grip anche se devo testare la durata perché un altro contro è che essendo una mirrorless quindi avendo il monitor perennemente acceso perché ha il viewfinder digitale quindi qualunque cosa si stia riprendendo c'è sempre il monitor acceso oppure l'oculare acceso che comunque è elettronico quindi sta sempre consumando quindi paradossalmente consumerà la batteria che è la stessa della 5D più in fretta della 5D perché ha sempre il monitor acceso questa è una cosa che devo testare, ovviamente siccome la userò prevalentemente per il video è scontato che durerà di meno rispetto alla 5D quando la uso per fare foto quindi non è tanto quella la gara diciamo che lo metto nei contro perché Canon stessa dichiara che la durata della batteria sarà inferiore e mi fido, ovviamente non sarà una durata insufficiente a fare i lavori che devo fare quindi è assolutamente una comfort zone dalla quale non esco perché comunque so che è una batteria che mi permette di portare a termine il 90% dei lavori che devo fare nel caso questo non bastasse la batteria è la medesima della 5D, è la medesima della 6D, è la medesima addirittura della 7D quindi io sono in giro con la mia borsa con dentro due camere, anche tre alle volte in qualunque momento io mi trovi con la batteria scarica, prendo la batteria da un'altra delle mie camere e sono a posto con tre batterie, sono abbastanza tranquillo che porto a termine qualsiasi lavoro quindi non lo considero un problema, è solamente una cosa che vi metto nei contro per coerenza veniamo alle lenti, ora più avanti ho in mente di fare una comparazione tra il 24-70 versione LF4 e il 24-70 F4 F7.1 ora vi devo raccontare una storia un po' strana che purtroppo è una cosa che mi capita sovente io vado in negozio perché ho fatto questo acquisto in negozio, anzi vi dico anche dove ho comprata dal foto amatore di Milano in Piazza Repubblica, ottimo negozio, se non lo conoscete andateci, buttate l'occhio ora si dà il caso che io mi reco in negozio con l'idea di acquistare questa camera la camera c'è ma è disponibile soltanto il kit ora vi devo dire, per chi non lo sapesse, che c'è una penuria di materiali al momento per cui per le case produttrici, quindi Canon, Nikon, Fuji, chiunque, qualunque casa produttrice sta diventando complicato produrre le apparecchiature che noi amiamo e che compriamo tutti i giorni perché appunto i materiali diventano sempre più difficili da reperire quindi ci sono dei costi che salgono e c'è una difficoltà nel distribuire questi materiali per cui ho fatto fatica a trovarla questa camera l'ho trovata al primo colpo però ho trovato solo la versione con il kit F4 F7.1 ora l'ho comprata così com'era perché era l'unica disponibile e anzi mi è andata bene perché altrimenti mi avevano già detto ma perché non prendi la R5? aspetta un momento, io non voglio la R5 voglio cominciare con la R e basta è una camera vecchiotta se ci pensate è uscita, cosa è uscita? tre anni fa, non mi ricordo più insomma c'ha qualche annetto ormai comunque ho deciso di optare per questa camera perché ha lo stesso sensore della 5D e io venendo dalla 5D vi dico che io non voglio nulla più di questo con la 5D io sono arrivato 5D Mark IV stiamo parlando ovviamente con quella camera io sono arrivatissimo cioè qualunque cosa mi promettano mi dicano guarda una qualità di immagini ancora superiore io dico guarda bello ma non mi serve perché quella veramente mi dà tutto quello di cui ho bisogno quindi veramente non mi serve una qualità superiore quindi se anche mi dicono che la qualità è superiore su certi aspetti io mi contengo perché in realtà non mi serve quindi vado tranquillissimo con questa camera inoltre le cose che a me piacerebbero perché obiettivamente mi piacerebbero moltissimo dei modelli superiori quindi la nuova Miraglia Mirrorless e anche la R5 e la R6 sono tutti i formati RAW sul video sono quelli che mi farebbero maggiormente gola però mi sono anche detto una cosa per quello che è il target dei miei clienti attenzione io non faccio cinema mi capita di fare qualche spot mi capita di fare documentari e interviste e poi vabbè ci sono i video miei ma ve lo dico senza peli sulla lingua la Canon EOS R è qui e io sto riprendendo con la iOS M50 quindi per me stesso vedete che non ho bisogno di una qualità stellare farò dei test, implementerò e ci sarà anche la Canon EOS R al posto della M50 in certi video, in certi contesti però non ho bisogno di chissà cosa tantomeno ho bisogno di una Canon EOS R5 per fare i video miei o per fare i video dei miei clienti sarebbe sprecata nel senso che girare in 8K RAW un'intervista è uno spreco gigante e quindi io il ragionamento che ho fatto è spendere 2400 euro o anche di più, cos'è che costano? non mi ricordo neanche più, spendere tutti quei soldi per una camera che mi dà un formato cinematografico laddove poi io non faccio cinema per me è uno spreco quindi ho deciso di procedere con un'entrata soft nel mondo delle mirrorless procedendo sulla Canon EOS R ovviamente che cosa succede? acquisto il kit, torno a casa faccio i miei esperimenti con questa focale 24-105 con il diaframma variabile se già ho i miei dubbi sui diaframmi variabili una volta che arrivo a casa mi dico no, 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 questa non è vita e allora immediatamente mi metto a cercare il 24-105 versione F4 serie L qual è il problema? esaurito esaurito dal fotoamatore? esaurito su Amazon ragazzi io non ho mai visto una cosa del genere in vita mia una cosa su Amazon che non si trova sono sbiancato ve lo giuro sono quasi caduto a terra mi hanno dovuto rianimare non si trova su Amazon non si trova su nessun venditore online se non qualche venditore cinese che costava anche 500 euro di meno però io lì mi sono detto qui mi mettono dentro un mattone dentro nella scatola e io spendo 1000 euro e mi arriva un mattone non mi fido cioè non me ne vogliate non è perché sono cinesi i siti però non mi fido di una cosa del genere quindi ho preferito di no ho girato un po' di negozi e niente mi hanno detto tutti la stessa cosa sono andato da FCF per chi non lo sapesse io sono di Milano quindi fotoamatore piazza della repubblica FCF in via Spartaco sì via Spartaco da quelle parti lì sono i due negozi di fotografia dai quali io vado prevalentemente non ce ne sono più altri li hanno chiuso tutti qui a Milano quindi questi erano quelli che avevo a disposizione la risposta è sempre stata la stessa quei pezzi sono esauriti il 24-105mm f4 è esaurito dappertutto e non sappiamo quando ci arriva perché come vi dicevo la casa Canon fa fatica a produrli perché non arrivano le componenti e quindi sono in stallo perché c'è molta domanda di questi obiettivi il 24-105mm è la lente più richiesta in assoluto perché è la più versatile chiunque entri nel panorama mirrorless con la Canon EOS R o superiori EOS RP anche se è per quello chiunque entri vuole questa lente perché si colloca in una fascia di prezzo che la rende la più abbordabile la più abbordabile della serie L probabilmente perché altrimenti se vogliamo il 24-70mm f2.8 andiamo quasi sui 3000€ sono dei prezzi veramente paurosi a me sono tremate le gambe quando ho visto quei prezzi anche perché mi sono detto ok io adesso ne ho bisogno non ne ho bisogno domani perché sto entrando soft in questo mondo della mirrorless però comunque ne ho bisogno se non arriva il 24-105mm cosa faccio? mi tocca prendere il 24-70mm per carità è bellissimo eh piacerebbe tantissimo avere il 24-70mm però costa il doppio quindi ho anche avuto un attimo di esitazione a questo punto devo dire che ho avuto un colpo di genio perché ho telefonato a un mio caro amico Silvio Scavetto se ci stai guardando Silvio grazie mille e metterò il suo sito con il suo portfolio in descrizione perché Silvio fa dei signori lavori e andateveli a vedere fa soprattutto ritrattistica andate a scoprire che cosa fa perché ci sono molte cose che io faccio bene ce ne sono parecchie che lui fa molto molto meglio di me ha uno studio attrezzatissimo e per chi è incuriosito andatevelo a cercare ho sentito il mio amico Silvio il quale mi ha detto prova ad andare in questo posto mi ha dato l'indirizzo di un posto che conosce lui fuori Milano lascerò il link in descrizione anche di quello foto ottica Zanichelli devo dire quando sono entrato ho sentito una ventata di paradiso entro e mi trovo di fronte questo muro completamente muro grande se ne stiamo parlando di una decina di metri pieno di camere obiettivi roba gigante teleobiettivi immensi una roba che non vedevo più non ero più abituato capite perché anche quando vai da foto amatore foto amatore è fornitissimo per carità però l'allestimento non è gigante hanno un po' di magazzino però l'allestimento non è così imponente e FCF ha una vetrinetta che però è più piccola è più composta e ha dei settori che sono separati quindi vedermi questo muro pieno di roba insomma chi fotografa mi capisce entri dentro vedi sta parete e dici ah che bello e vado diretto a chiedere ecco ragazzi per puro caso non è che per caso vi è rimasta una lente questi si guardano e dicono ecco chi se la compra e io sono rimasto così ho detto ah quindi ce l'avete sì sì ne abbiamo una cacciatemela fuori datemela subito insomma sono riuscito ad accaparrarmi questa lente ovviamente devo un favore immenso a Silvio perché non l'avrei trovata senza di lui non conoscevo questo posto infatti posto che consiglio perché eccezionale purtroppo per chi abita a Milano è un po' fuori io ci ho messo un pochino a raggiungerlo ma ne valsa assolutamente la pena fra l'altro devo dire prezzi contenuti perché non mi hanno rapinato costava meno che su Amazon quindi sono veramente veramente contento e quindi sono riuscito a portarmi a casa pezzo completo e sono molto contento perché a questo punto posso cominciare a lavorare bene in ambito mirrorless bene come dico io poi ovviamente se ci vogliamo viziare vogliamo magari andare oltre prendere un 35 mm con un'apertura decente un 85 mm con un'apertura decente però con questa si può lavorare cioè al di là dello sfocato artistico con questa si lavora si va fuori e si fanno i lavori solo con questa quindi diciamo che partiamo bene come vi dicevo arriveranno presto dei test più video che foto perché foto è lo stesso sensore della 5D Mark IV quindi è inutile che vi faccia tanto vedere prove su quello mi interesserà molto fare degli esperimenti con il 4K per esempio che io non userò perché a me non interessa tanto il 4K nel senso che non mi piace come formato finale nel senso che per quello che faccio io io faccio fatica a processarlo il 4K faccio fatica nel senso che la macchina fa più fatica a digerirlo fa più fatica a elaborarlo fa più fatica a esportarlo faccio più fatica a fare la color è più pesante tutto il mio cliente non se ne fa niente del 4K perché lo standard è ancora il full HD per intenderci turatevi il naso ma purtroppo è così la maggior parte dei clienti che avrete là fuori vorranno ricevere il video via Whatsapp quindi ve l'ho detto di turarvi il naso spero l'abbiate fatto siete anche seduti comodi spero nessuno svenimento la maggior parte dei clienti vuole ricevere il video via Whatsapp quindi capite bene che fare un video di 8K gigante che poi pesa 40 giga non vi fa tanto gioco avete fatto una fatica immensa a produrlo e poi il cliente gli dice senti me lo fai piccolo così che io lo devo mettere solo su Whatsapp mi basta 400 pixel di lato lungo e dici vabbè la mia camera la butto via la prossima volta te lo faccio con l'iPhone tanti lo fanno prossimamente su questi canali video cinematografici prodotti interamente con l'iPhone vi aspetto lì questo per dirvi che non è un formato che mi interessa nel senso che non mi interessa produrre in 4K come formato finale però mi interessa molto vedere la differenza tra il girato in 4K e il girato in Full HD perché il girato in 4K dovrebbe avere una pasta molto più gradevole e quello che mi interessa soprattutto sperimentare è se questa pasta gradevole si riesce a tradurre in Full HD quindi girare in 4K e sportare in Full HD sicuramente a livello tecnico è una bazzecola si fa voglio vedere qual è la resa se questa grana del 4K viene mantenuta in Full HD sicuramente un po' di beneficio ci sarà l'altra cosa molto bella di questa camera è che consente di girare in formato C-Log già nativo quindi sarà tanta roba fare la color correction sui filmati estratti da questa camera e sono veramente curioso di andare a iniziare ora ovviamente la cosa che un pochino un pochino mi perplime anche quello che perplime tutti però sono sicuro che molti di voi avranno già cominciato la frase sulla tastiera però c'è il fattore di crop sì questa è una cosa seccante perché quando giriamo in 4K c'è un fattore di crop che mi pare che sia addirittura maggiore del fattore di crop sulla PSC mi sembra che sia 1,8 invece di 1,6 quindi è seccante è veramente seccante perché la focale è quasi duplicata cioè io sono lì con il mio 24 mm e sostanzialmente è un 40 quindi è abbastanza seccante non tanto per il cambio di focale perché tanto uno potrebbe anche dire vabbè il 24 a me non interessa a me va benissimo partire da 40 io magari giro tutto a 50 quindi basta che mi regolo e va bene così il problema è un altro però diciamo che io volessi girare che so io a 50 mm e voglio avere la profondità di campo del 50 mm e voglio avere la distanza dal soggetto del 50 mm perché un conto è l'angolo di campo e un conto è la focale quindi se il fattore di crop mi restituisce l'angolo di campo di un 50 mm però la distanza è diversa la profondità di campo è diversa io lì sono in difficoltà nel senso che al di là della difficoltà oggettiva che ogni volta devo calcolarmi a quanto devo stare per avere la lunghezza focale relativa lì dopo un po' mi dice vabbè uso sempre il 50 mm quindi so cosa devo fare ci si abitua non è tanto quello il problema il problema è che non avrò mai esattamente la resa della lunghezza focale che vorrei perché avrò sempre l'angolo di campo che è quello ma la lunghezza focale invece che è un'altra quindi questo per i cineasti e per i fanatici è un problema diciamo che io ci passo sopra la maggior parte delle volte non è un problema per cui mi fascio la testa però è seccante e questo è un ennesimo motivo per cui probabilmente non userò tanto il 4k intanto per non appesantirmi non appesantire non affaticare la macchina e non affaticare i miei computer dopo quando ci lavoro ma anche per questo fatto perché se io giro a 24 mm voglio che sia un 24 non tanto perché sono fanatico ma perché mi dà quella sensazione di essere quella cosa giusta e che mi restituisce sempre quel tipo di sensazione cioè se io voglio un 35 mm voglio che sia proprio un 35 non voglio solo l'angolo di campo ma voglio anche la profondità di campo e la distanza relativa dal mio soggetto ricordatevi che spesso e io sono uno di quelli non si sceglie la lunghezza focale per l'angolo di campo ma per la distanza dal soggetto a me è quello che interessa ancora di più dell'angolo di campo bene con questo credo di avervi detto praticamente tutto quello che vi dovevo dire in questo aggiornamento che è un aggiornamento rapido spot in realtà ci tenevo tantissimo a farvi vedere la mia nuova bambina quindi fondamentalmente il video era per questo non sto a snocciolarvi specifiche tecniche perché se avete cliccato questo video per il titolo in cui c'è scritto dentro Canon EOS R avrete già visto 90 video che parlano della stessa cosa le specifiche le avrete fin sopra nei capelli quindi preferisco parlarvi delle mie opinioni e delle mie sensazioni per chi è questa camera? secondo me questa camera va benissimo per i fotografi che vogliono entrare nel mondo della mirrorless va benissimo per i videomaker che vogliono cominciare a lavorare nel mondo mirrorless quindi va benissimo per tutti a livello professionale ovviamente io non la consiglio agli amatori perché se siete degli amatori io vi consiglio la EOS M50 che sto utilizzando in questo momento con la lente kit questa è una camerina mirrorless della madonna è una camera spettacolare in grado di girare anche in un formato che simula il log ho un altro video in cui vi faccio vedere tutto come si installa ve lo linko in descrizione da qualche parte quindi questa è una camera che produce filmati eccezionali è una lente con un anello adattatore che può montare tutte le lenti Canon della serie EF e EFS non la serie RF ovviamente perché quella è una serie superiore che viene dopo quindi quella no però tutte le lenti vecchie che potete avere questa camerina le monta quindi è un'ottima camera se siete degli amatori io vi consiglio questa invece se siete dei professionisti potete tranquillamente andare sulla EOS R tenete conto vi dico questo perché tendenzialmente dei professionisti rientrano dei costi gli amatori magari no ovviamente se voi dite io sono un amatore ma me la posso permettere la voglio o per carità avete la mia benedizione comprate quello che volete diciamo che la consiglio di più ai professionisti perché è più facile che se la ripaghino perché costa tanto questa camera non te la tirano dietro camera e lente siamo sui 3500 euro qui quindi non è una cosa che ti tirano dietro diciamo che non è neanche facilissima da usare oddio è molto facile da usare io me la trovo perfettamente e ho già tutte le impostazioni dove voglio perché i menu di Canon sono fantastici molto intuitivi e ti danno tutti i bottoni che vuoi esattamente dove te li aspetti molti si sono lamentati dell'assenza di un joystick ma la verità è che il pensiero dietro all'assenza del joystick è stato vi abbiamo dato un joystick più grande l'intero display è un joystick perché è uno schermo touch quindi ragionamento che ha senso perché ti tolgo il joystick quindi non paghi più quella componente perché il joystick ha un costo quindi ti scalo il costo di quella componente e ti integro invece un display che fa tutto quanto e che era già touch quindi ti integro tutte le tecnologie dentro in quel display touch ci sta perché il display touch ti permette di fare più cose rispetto al joystick quindi ragionamento che ci sta e chi non lo sta apprezzando adesso fra dieci anni non ne potrà più fare a meno perché le reflex non sono più in produzione ragazzi ricordiamolo quindi è stato conclamato che le mirrorless sostituiscono le reflex quindi non andranno più in produzione le reflex quindi io le mie non le mollerò mai io finché ho la mia 5D me la tengo stretta è guai a chi si avvicina però non durano in eterno quindi prima o poi io quando dovrò sostituire qualcosa andrò a sostituire con delle mirrorless per forza di cose non posso fare altrimenti perché non troverò più le reflex quindi andremo tutti quanti a sostituire il nostro arsenale con questo tipo di camere senza lo specchio e quindi dovremo in qualche maniera abituarci tutti quanti sarà anche un bel abituarsi perché queste camere diventano sempre più performanti i display touch sono sempre più performanti anche loro sono velocissimi sempre più precisi addirittura sulla nuova ammiraglia di casa Canon c'è una funzione che a me ha fatto sballare ho veramente guardato il video di presentazione di Canon in diretta streaming su YouTube e mi sono detto a un certo punto basta sto flippando in un'altra dimensione tecnologia che c'era già perché non è nulla di nuova è una tecnologia vecchia di addirittura più di dieci anni se ricordo bene però è una tecnologia che non era mai stata implementata la messa a fuoco con l'occhio pensate questa cosa rivoluzionaria osservando l'immagine dentro nell'oculare la camera riesce più o meno con una precisione approssimata ovviamente non è precisa al 100% però riesce a vedere la nostra pupilla in che punto sta guardando e mette a fuoco da quelle parti poi con un sistema di intelligenza artificiale integrato va a cercare di riconoscere la scena quindi se stiamo facendo un ritratto la camera tirerà a indovinare che io sto guardando il viso della persona la camera in automatico cercherà di andare a mettere a fuoco in quella zona con delle pattern che riconosce quindi è un ritratto cercherà di beccare l'occhio è un'automobile cercherà di beccare il frontale dell'automobile o della moto se è una gara io veramente sono affascinato da tutto questo e non vedo l'ora di metterci le mani sopra ma per adesso ci fermiamo qua